Fiamme improvvise sul tetto di un'abitazione in via Caltana a Santa Maria di Sala. Il fuoco sarebbe stato innescato da alcuni pannelli fotovoltaici per ragioni da ricostruire. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mira e Mestre con due autopompe, un'autobotte e l'autoscala assieme a 14 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che si erano estese al sottotetto in legno. Le squadre sono riuscite a circoscrivere e sezionare il fuoco, evitando il coinvolgimento di tutta la copertura.